Di nuovo insieme per Stati Uniti Italia dalla Cologne Arena di Colonia, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo del terzo periodo, Stati Uniti sotto di sei punti al termine del primo tempo, Italia 41, Stati Uniti 35, 17 punti, 17 per un monumentale Jack Galanda, che davvero ha fatto vedere tutto il meglio del repertorio e del suo bagaglio tecnico e anche di più, Claudio. Sì, ha fatto di tutto, ha segnato, noi abbiamo preso un po' di spavento all'inizio, se ti ricordi, quando ha fatto il secondo fallo e lì siamo un po' preoccupati. Ci avevamo spaventati all'inizio per il secondo fallo commesso da Jack Galanda, poi invece ha cominciato a segnare, si è più interessato dei falli anche perché gli Stati Uniti hanno appoggiato molto la palla sotto, soprattutto nel primo periodo con Duncan, cosa che hanno fatto di meno, hanno più cercato le prestazioni contro la zona. Sì, noi dopo il secondo fallo anche di Jack ci siamo messi a zone e lì siamo riusciti a coprire bene, per cui abbiamo sfruttato questa difesa per coprire su Duncan e i risultati ci hanno dato ragione. Quadro in campo, vediamo i quintetti, in campo c'è Richard Jefferson, in campo team Duncan, insieme a lui Iverson, Marbury e poi Lamar Odom. Per gli azzurri Bulleri, Righetti, Marconato, Galanda e Basile. La differenza tra il primo quarto e il terzo quarto come quintetto iniziale per l'Italia è solamente che Righetti è entrato al posto di Soragna. Intanto continua la musica dei Rolling Stones in sottofondo, rimessa Italia con Basile, primo tempo splendido. Anche quello del baso autore di sette punti, soprattutto in avvio, è stato il giocatore che ha fatto vedere che si poteva andare dentro, che si poteva fare un palleggio a resto tiro, che si poteva prendere un tiro da tre punti. Ha messo quella faccia tosta che avevamo bisogno, soprattutto per darci quella spinta mentale all'inizio, di non aver paura. Tanto Basile in palleggio deve vedersela con Stefan Marbury. Non siamo mai riusciti a vedere l'accoppiamento Bulleri-Marbury, il giocatore di New York, che è il preferito di quello della... Grande, 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 abbiamo bisogno di Bulleri. Qui si trasforma in Marbury e va a segno con la tripla del Bullo. Primi tre punti della sua partita. Punteggio che si allarga nuovamente, 43-35. Palla sotto intanto il movimento da parte di Duncan, che va a segno con facilità. Facilità, e quando c'è lui in campo, aveva ragione Bill Walton... Sì, quando c'è lui si sente, quando esce la squadra fa fatica, e lo cercano costantemente. Tanto ancora il contropiede con Marbury, che si scatena per Duncan. Questa è una infrazione chiarissima di passi, anche per Tim Duncan, che forse pensava di aver tenuto il perno. Non è stato così. Si è distato un po' dal taglio il suo compagno di squadra a destra, ha cercato di dargli la palla e poi ha messo giù, invece ha fatto passi. Intanto Italia in palleggio con Bulleri. Cerchiamo il tiro di Basile adesso. L'uscita al blocco. Basile dal blocco e a segno ancora il vaso! Ancora tre punti! Perché è un grosso giocatore? Perché ha appena sbagliato un tiro, adesso si è fatto ricamare un gioco, uno stagger per lui. È uscito, ha messo bene i piedi, ha fatto canestro. Va in doppia cifra anche Basile, dieci punti per lui, 47-37 di nuovo in doppia cifra in vantaggio. Azzurro qui, Iverson, seconda Genzo. Basile in virata, Bulleri in virata, se ne va lo scarico per Basile, oltre a venire nei tre punti. Non va a segno il tiro del numero cinque, Azzurro. E allora dall'altra parte, Marbury perde palla, si butta per terra a Galanda. Quasi di gioco confuso e qui l'Italia può dare il meglio sull'intensità. Righetti non ha paura, ancora Basile, da tre punti, sbaglia. E Marconato è preso nella morsa. Francesco, non so se hai visto l'azione difensiva di Bulleri sulla penetrazione di Iverson, quando gli abbiamo portato via palla per il contropiede. È stato veramente giù di gambe, non si è fatto passare. Per fortuna che Iverson è uno di quelli anche veloci. Qui fatica Jefferson a prendere la linea di fondo. Odom prende il centro dell'area, va al passo di incrocio. Ancora Jefferson, ancora lo scarico. Bella rotazione di Bulleri. Se la scade però il cronometro dei 24. Bellissime, bellissime rotazioni. Costretti a due, tre, quattro scarici, giocatori americani. Grossi aiuti, sembra che giochino con l'elastico, veramente. Ancora un pallone recuperato per l'Italia. Servono come il pane quando arriverà il momento di aridità offensiva che inevitabilmente giungerà nel terreno. Due laterale con due postalti e Stagger. Forse andiamo per un tiro di Basile. Tanto arriva il fischio arbitrale. Ebbè ha poco ad appendersi alla maglia a Marbury. Parlo di Marbury. Ha usato un po' troppo le mani sull'uscita dai blocchi di Basile. Gioco fermo, si riprende con la rimessa da fondo. Adesso si dovrebbe essere un blocco da parte di Marconato per Galando. O un blocco cieco, o un blocco, sì un blocco cieco di Basile. Bulleri che va a prendersi il tiro con Toste. Ah, verso me lo mette! Forse è in tabella se ho visto bene. Incredibile prodezza del Bullo che quando si scalda davvero non teme confronti. Cinque punti per lui. Italia 49, Stati Uniti. E loro cercano Duncan. E loro cercano Duncan. Cercano Duncan, ricezione difficoltosa. Lo tiene bene Marconato che però sul primo passo del fenomeno degli scorsi è costretto a prendere salvo. Non è facile, non è facile. Però hai visto costantemente palla dentro a Duncan. Ci sono tagli, movimenti. Hai fatto un sorriso quando Marconato è stato costretto al fallo su Duncan, Claudio. Marconato penso che sia un giocatore molto molto intelligente. Sa anche quando può sprecare un fallo. Intanto la palla arriva sotto, poi fuori per Jefferson, qui Duncan. Stivo difficile, ancora l'ottima opposizione di Marconato. Sì, si è messo davanti, ha fatto muro, non ha avuto paura dei gomiti di Duncan. Gli ha fatto fare un brutto tiro. Marconato, colonna della Benettona, sempre giocato nella squadra di Treviso. Trevisiano di San Giuseppe, lui sta facendo muro in difesa contro il giocatore che per due volte ha vinto il titolo di MVP. Intanto Righetti, palleggio arrestativo su Jefferson. Gli esce, rimbalzo di Duncan. E se ne può andare, bella palla di Iverson. Lo scarico di Marbury per Jefferson, che va bene a stegno da sotto. Due bei punti, bella azione in velocità, con due passaggi. Iverson, Marbury e Jefferson. Quando inizia a prendere velocità è un po' difficile. Sono veramente curioso di questa sfida Iverson-Bulleri, perché Iverson si sta sbattendo, la sta prendendo veramente sul serio. Tanto il bello scarico di Bulleri, la partenza di Galanda. Gran movimento di Jack, passaggio fuori per Bulleri. Un buon tiro per il Bullo, questa volta gli esce. Palla nostra forse, sì. Bravissimo, Dennis, che fa carambolare il pallone sulla mano di Marbury. L'Eri Brown salrabbia, L'Eri Brown salrabbia. E questo è un segno. L'Eri Brown che sorride in modo abbastanza sardonico in questa fase di gioco. Rimessa Italia, 6-12 dalla fine del terzo periodo. 4-9-3-9 per gli Azzurri, a più 10 contro Team USA. la squadra americana di professionisti NBA che si giocava loro ad Atene. Ancora Basile, un dio d'otto, lo mette, lo mette, lo mette il vaso, lo mette il vaso. Da casa sua. Tedeschi stanno caricando, all'inizio erano tutti per il Green Team. 13 punti per Basile. Sono ritornati a zona. Per quest'Italia non può non piacere. 5-2-3-9, mamma mia. Bella palla di Marbury. Canesco di Duncan che cerca la schiacciata. Arriva il fallo di Marco Nato. Ci hanno punito due o tre volte con questa penetrazione sul fondo e scarico a centro area, dove forse lì siamo un po' vuoti, ma penso che la zona abbia soprattutto problemi lì. Comunque stanno parlando, Jack e Dennis stanno sistemando quel problemino lì. Due falli per Righetti e due falli. La situazione è anche per Rombaldoni. In lunetta Tim Duncan, mentre due falli anche per Galanda. A segno dalla lunetta Duncan che completa il gioco da tre punti. Gioco da tre punti per Duncan. Difesa che si alza questa volta. Presse non la doppiano. Difesa molto forte questa di Wade su Bulleri e di Iverson su Basile. Che ma gioco testo un pick and roll. La penetrazione di Bulleri. Bella linea di fondo di Righetti. Lo scarico è problematico però. Contropiede per Iverson che va ad appoggiare facilmente il contropiede. Facilmente. Stanno aumentando la pressione. Vedo che Duncan si sta sbracciando e incitando i compagni. Va anche a raddoppiare Bulleri. Questo può essere un punto molto molto importante. Se gli Stati Uniti cominciano a chiudere la pittesa. Dobbiamo fargli un canestrino adesso. Se ne va bene Righetti. Si prende la stoppata. Il pubblico di Polonia grida difesa, difesa. Buon fallo. Bravissimo. Buon fallo. Questi falli che ci vogliono per spezzare un po' il ritmo. Meglio sprecare un fallo così che dà la possibilità di fare un layup facile. Time out. Buon time out adesso. Dobbiamo riparlarci un attimo. Dobbiamo sistemare due o tre cosette. E soprattutto smorzare questo momento, questo forcing degli Stati Uniti. Stati Uniti che sono tornati a meno 8 sul fronteggio di 52 a 44. A 4,59 dal termine del terzo periodo. Abbiamo anche toccato il 52 a 39 in nostro favore. Fino a questo momento l'Italia comunque sta dando. Ci hanno recalcato quel tipo di risposte che l'allenatore della Montefaschi Siena, campione d'Italia, voleva. Vale a dire, intensità, voglia. E cosa è fatto nel modo e nel momento giusto? Come ci diceva prima della partita di No Meneghin, questi sono i punti di forza di questa squadra. Il desiderio, la voglia di fare, il giocare assieme, il passarsi la palla, il fatto che non ci siano egoismi tra di loro offensivamente parlando. Io penso che questi siano i punti di forza di questa squadra. Che forse, come dicono in molti, gli manca quel giocatore che ogni sera ti può dare 20 punti. Però con il loro gioco, con la loro transizione, con la loro motion offens, riescono sempre a trovare dei canestri. Escono le cheerleader, rientrano in campo i giocatori, termina il time out. L'Italia è in campo con Pasile Bulleri. E' in campo anche Matteo Soragna, quindi una soluzione in più dall'arco dei 6.25, in campo Jack Galanda. Dall'altra parte, molto lungo il time out di Larry Brown, giocatori americani che si prendono qualche secondo in più. Sapete che forse, dopo questo primo tempo, giocato con gli azzurri, hanno cominciato a capire che qualche difficoltà, insomma, dovranno anche trovarla. Anche se probabilmente 9 su 10 vinceranno loro, non ci sarà un tappeto rosso ad Atene. Penso proprio di no. Forse sono un po' duri di comprendonia, però già quattro anni fa dovevano capirlo questo, quando hanno rischiato di perdere l'Olimpiade a Sidney. L'anno scorso, due anni fa, a Indianapolis hanno fatto fatica. E se non stanno attenti, veramente rischiano. Anche se c'è da dire che gli Stati Uniti è l'unica nazione al mondo che riesce a fare due squadre, non dico una, dieci giocatori, ma ha venti giocatori che possono fare veramente, possono vincere loro. Nel senso che c'è delle riserve buonissime. Intanto ancora Duncan, si va da Duncan, come ha detto Bill Walton, Odom, ottimo movimento, splendido movimento di Odom, difficilmente fermabile in quella situazione. Sì, stanno alzando anche la difesa, stanno cercando di non raddoppio, stanno cercando di portare via la palla dalle maglie del playmaker. La conclusione ancora di Gianluca Basile da tre punti, e l'uomo di Ruvo di Puglia mette ancora tre punti e sono sedici per lui, una serata da sogno. Gran palla recuperata di Bulleri. Il Bullo intanto si fa valere, aspetta anche l'arrivo di Galanda e di Marco Nato. Si può cominciare a giocare, il blocco di Marco Nato, arriva il pallo di Ayrssona. E viene alla faccia di Arsio.